mi sono andato che secondo testo male è la cosa più vera che io insomma non abbia mai fatto però è proprio vera 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 oggi Villa Glori giornata una coperta per scoprirci qualche amico che è venuto a portare la coperta per il franzadetto gli amici della comunità di Sant'Egidio che tra poco ci tratta una mano a raccogliere giustamente un vice e lo cominciamo vero dal cambiamento acqua all'olivo noi dobbiamo essere formali qui non ci sono gente formali quindi il video dell'evento una coperta per scoprirci nasce al bagno parte dal bagno perché essendo vero nasce dal bagno e si fa sono venuti a prendere i sacchi però adesso un attimino sono venuti dobbiamo fare un giro tavola di come ci si chiama come si chiama lei? Ivana Marco direttamente dal bagno come Luca? Giulia Luca no Carla 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 V? Carla V Carla V Carla V Lelio nome solo nome Marco Simone buona vita Francesco direttamente dal cesso Francesco è partito sto video è partito dal cesso mazza il culo perché se non sa dove finirà finirà ma vedete pure con i rossi fanelli sì Alessandro Alessandro solo il nome Alessandro Alessandro al quadrato ma l'hai incominciato dal cesso dal cesso ho detto che secondo me è la cosa più vera che ho mai fatto e quindi da dove si comincia dal cesso nome Viva la vita Dario Viva la vita ti chiami il nome Tonio Tonio? la papà la torta mamma Tonio eccola là nome Giancaterina Nazionale quindi il nome del Battista non ti hanno dato Giancaterina Nazionale è il nome o il cognome? eh il nome il battesimo? Enrico oh come ci chiamiamo? nome Stefano Salmino nome non lo so non lo so sei bravo no scendi giallù nome Giovanni Madonna santo Doriana no non era difficile il nome di battesimo del presidente è Ballariello Nazionale Ballariello di battesimo come però? Salvador oh Daniele l'intenditore Ivana Filippo Federico Fabrizio Diego piccoli piccoli e questo è sono ostentatori positivi Francesca bella 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 si 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 è un nome come ti chiami il nome? aspetta un attimo nome Adriano pronto Mangela Mangela è il primo grande problema del pesetto la mia prima moglie mi hai accoggiato tutto te stesso qua adesso direttore di banca lei no 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 ciao papi ti chiami? sì Ludovica Ludovica come ti chiami? nome di battesimo no non mi registrare nome prego devi dire il tuo nome Annalisa perché? ah difficile mamma mia nome di battesimo? Cinza tutti ostentatori positivi? San Luca Loredana come ti chiami? nome di battesimo? papi Marco Marco come ti chiami tu? Lucrezia ma chiami zio Marco Martina ti chiami zio Marco Marco già ci sono stati lei come si chiama? nome di battesimo come ti chiami? oh alleluia riparaggiate come ti chiami tu? Renzo chi è qua? Piero nome? Monica dove? Giulia grazie Chiara Francesco manca qualcuno? dai dai presi tutti allora una coperta per il suo pece allora abbiamo raccolto le coperte gli amici della comunità strategia ci danno una mano a raccogliere in realtà trattasi di stangata le rimettiamo domani al negozio di Silvia Escolta 3,90 al pezzo questo è effettivamente lo scopo grazie a tutti no verranno verranno smistate per i senza detto romani eccezionale la presenza di tutti quanti straordinario spettatori positivi meravigliosi io dico grazie a voi vi va la vita sempre e comunque è la prima grande iniziativa perché quando uno è bravo mette il petto fuori la testa alta e che petto che petto siamo stati bravissimi oggi stupendi stiamo senza petto stiamo senza fan stiamo senza amici stiamo senza coperno stiamo a farmi il culo però è una bella cosa con saporezza ragazzi questi ragazzi qui siamo tutti dove li portate questi a caso al negozio viva la vita primo grande petto secondo questo mare per il cielo per stessa detto romani stasera stasera dormi bene stasera dormo molto bene I stay I play grazie a tutti presi tutti sì 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 grazie 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 Grazie.